La finale del Paglio di Asti 2011 è realizzata in collaborazione con www.votacoppo.com, il blog di Marcello Coppo. La finale del Paglio di Asti 2011 è realizzata in collaborazione con www.votacoppo.com La finale del Paglio di Asti 2011 La finale del Paglio di Asti 2011 è realizzata in collaborazione con www.votacoppo.com La finale del Paglio di Asti 2011 è realizzata in collaborazione con www.votacoppo.com La finale del Paglio di Asti 2011 è realizzata in collaborazione con www.votacoppo.com La finale del Paglio di Asti 2011 è realizzata in collaborazione con www.votacoppo.com La finale del Paglio di Asti 2011 è realizzata in collaborazione con www.votacoppo.com La finale del Paglio di Asti 2011 è realizzata in collaborazione con www.votacoppo.com Grazie a tutti. La finale del Paglio di Asti 2011 è realizzata in collaborazione con www.botacoppo.com, il blog di Marcello Coppo.